I mercati emergenti non hanno avuto un periodo facile, hanno fatto fatica a gestire la pandemia, hanno perso introiti quando il prezzo del petrolio è crollato nel 2020 e un rialzo dei tassi in America, che si traduce in un dollaro più forte, renderebbe i loro debiti denominati in dollari più difficili da pagare. Inoltre le tensioni con Russia e Cina ci ricordano del forte rischio politico di investire nei mercati emergenti. Quindi che senso ha investire nei mercati emergenti tanto rischio per niente? In realtà un motivo ci sarebbe ed è il tema che affrontiamo in questo video. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia, finanza e investimenti. Innanzitutto cosa sono i mercati emergenti? Con il termine mercati emergenti si definisce un insieme molto eterogeneo di paesi che seppur non sviluppati hanno una minima regolamentazione finanziaria e sono aperti ai capitali stranieri. I mercati emergenti sono anche detti paesi in via di sviluppo, a dare l'idea di un avvicinamento economico ai paesi sviluppati, anche se questo termine è fuorviante perché ci sono tanti paesi in via di sviluppo che sono in via di sviluppo da una vita come il Brasile, la Tailandia, la Malesia o addirittura che hanno fatto passi indietro come il Venezuela, l'Argentina o la Turchia. Quello che voglio dire è che i mercati emergenti non sono proprio emergenti, sono paesi che non sono sviluppati ma che hanno un'infrastruttura finanziaria minima per poterci investire, cioè metto i soldi e spero che non spariscano, ok? I motivi per cui avrebbe senso investire nei mercati emergenti secondo la teoria economica sono sostanzialmente due. Il primo è il solito discorso di tanti accademici che a maggior rischio corrisponde maggior rendimento. I mercati emergenti hanno economie più fragili, quindi sono più rischiosi, quindi dovrebbero rendere di più nel lungo termine. Il secondo motivo è che i mercati emergenti, visto che non sono ancora del tutto integrati nell'economia mondiale, dovrebbero avere un ciclo economico diverso rispetto ai paesi sviluppati e quindi offrire diversificazione all'investitore. In soldoni, se c'è una crisi in America, non è detto che ci sia anche in Vietnam o in Cile. Ora, queste teorie economiche riflettono la realtà o sono i soliti buoni propositi degli economisti che però poi danno scarsi risultati? Vediamo, cominciamo con il rendimento. Vi faccio vedere un grafico che parla da sé, mettendo a confronto i ritorni azionari dei mercati emergenti contro il mercato americano, che è un po' il punto di riferimento a livello mondo dal 95 a oggi. I mercati emergenti hanno generato ritorni medi annui di poco più del 6% contro quasi l'11% dell'America. Insomma, la metà. Eppure questi paesi sono cresciuti molto di più dell'America a livello economico. Dove sta l'inghippo? Due parole. Corporate governance. Questo è un tema che affronto molto nel dettaglio nel mio corso, perché nessuno ci fa caso ma è fondamentale. Non basta la crescita, bisogna che gli utili delle aziende vengano equamente divisi tra tutti gli investitori, non che finiscano in tasse, in benefit per il management o in prestiti o fondi di altro tipo per gli azionisti di maggioranza o che peggio ancora spariscano del tutto. Purtroppo i mercati emergenti non soffrono solo di un rischio economico, ma soffrono anche di un forte rischio politico e di corporate governance, per cui gli apici pubblici e privati non sempre agiscono nell'interesse di tutti gli azionisti. Il risultato è che anche la buona crescita economica di questi paesi e delle loro grandi aziende spesso viene sperperato per colpa di una cattiva governance. In realtà un esempio clamoroso lo abbiamo avuto l'anno scorso, quando il governo cinese di punto in bianco ha vietato alle aziende del settore education di fare utili, bruciando nel giro di pochi giorni il 90% del valore di quelle società. Veniamo al secondo motivo, e cioè che i mercati emergenti dovrebbero offrire diversificazione rispetto ai paesi sviluppati. Torniamo al nostro grafico, che adesso vi metto in scala logaritmica, è sempre lui però così vedete meglio le curve. Allora guardate cosa succede durante la bolla delle dot com. È vero che i mercati emergenti non entrano in bolla come l'America, ma è perché entrano in crisi prima. Tra l'altro la crisi del 98 è stata proprio scatenata dalla Russia che è andata in default sul debito pubblico. Quindi prima entrano in crisi per conto loro, poi però quando scoppia la bolla in America entrano in crisi di nuovo. Durante la crisi finanziaria del 2008 seguono l'America in crisi nera, anzi forse fanno anche peggio. Dopodiché rientrano in crisi nel 2016 per conto loro. Se vi ricordate nel 2016 c'è stato il crash delle commodity e si dà il caso che molti mercati emergenti siano esportatori di commodity, come la Russia e il Brasile. Poi durante la pandemia sono andati giù uguale, solo che stanno facendo più fatica a riprendersi. Quindi i mercati emergenti offrono diversificazione dai pesi sviluppati? A me sembra una diversificazione molto singolare, cioè i mercati emergenti seguono i pesi sviluppati nel bene e nel male, solo che ogni tanto vanno giù per conto loro. L'investitore si ritrova con una porzione di portafoglio che sì si muove in senso opposto, solo che va giù quando il resto va su e va giù quando pure tutto il resto va giù. Non mi sembra una diversificazione molto sensata e il motivo è che i mercati emergenti sono molto integrati nell'economia globale. In un certo senso sono stati i veri beneficiari della globalizzazione e dipendono dai pesi sviluppati per due cose fondamentali, investimenti e mercati di sbocco. Se le cose vanno male nei pesi sviluppati, vanno male anche nei mercati emergenti. In più, i mercati emergenti soffrono di problemi strutturali dovuti al fatto che hanno economie fragili legate alle commodity, con i debiti espressi in dollari e a cui spesso si aggiungono problemi politici. Ma se maggior rendimento e diversificazione non sono i motivi per cui ha senso investire nei mercati emergenti, allora qual è il motivo? Vi rispondo mettendo a confronto due numeri molto importanti di cui vi avevo già parlato in passato nel video su come determinare il prezzo di un ETF. Quando si cerca di trovare il valore di un qualche cosa, non si può soltanto fare un confronto in termini di prezzo, ma bisogna considerare anche la qualità. Non posso confrontare una Fiat con una Porsche solo in termini di prezzo, giusto? In ambito finanziario, due misure sintetiche ma efficaci sono il rapporto prezzo-utili, in gergo PE che sta per price earnings, e il ritorno sul capitale proprio, in gergo ROE che sta per return on equity. Mettiamo a confronto queste due misure per America, Europa, Giappone e mercati emergenti. Cosa notate? Io vedo due cose. Intanto che i mercati emergenti hanno delle ottime valutazioni rispetto all'America, ma anche all'Europa. Si parla tanto di bolla e che tutto costa tantissimo. Azioni, obbligazioni, immobili hanno tutti i prezzi alti. Bene, ecco qua, un asset che non costa molto. L'altra cosa molto più importante, secondo me, è che a differenza delle aziende giapponesi che hanno un ROE basso e che quindi meritano valutazioni basse, le aziende dei mercati emergenti hanno un ROE di tutto rispetto, secondo solo le aziende americane. Questo vuol dire due cose. La prima è che le aziende dei mercati emergenti, da un punto di vista meramente di valutazione, senza considerare i rischi politici di corporate governance, sono le aziende con le migliori valutazioni oggi. La seconda cosa più interessante per un investitore di lungo termine è che questi paesi stanno finalmente riuscendo a tirar fuori delle aziende veramente competitive. Guardate, questo ROE così alto è dovuto ovviamente alla concentrazione di aziende tecnologiche che costituiscono il 25% dell'indice, ancora una volta, secondo solo all'America. Cosa vuol dire? Vuol dire che un investitore di lungo termine potrebbe aspettarsi negli anni di ritrovarsi in portafoglio aziende veramente competitive, del calibro delle aziende tecnologiche americane e non più le classiche aziende legate alle commodity che vanno incontro al ciclo di crescita e crisi. C'è da dire che queste aziende sono per lo più cinesi, taiwanesi e indiane. Quindi uno in teoria potrebbe direttamente investire lì, ma visto che questi tre paesi compongono circa il 70% dell'indice mercati emergenti, non cambia tanto. Per concludere, i motivi classici di investire nei mercati emergenti, e cioè maggior rendimento e diversificazione, non sono veri. Il rendimento va e viene e non c'è nessuna diversificazione vera rispetto ai paesi sviluppati. Tuttavia, in questo mondo di valutazioni altissime, i mercati emergenti offrono le migliori valutazioni disponibili. Per un investitore di lungo termine, inoltre, un minimo di esposizione ai mercati emergenti, almeno a Cina, Taiwan e India, potrebbe dare delle belle sorprese in futuro, visto il continuo miglioramento della qualità delle aziende locali. Da ultimo però, bisogna sempre ricordare che, anche se non è detto che portino un maggior rendimento, come dice la teoria, i mercati emergenti sono più rischiosi dei paesi sviluppati. Gli investitori devono aspettarsi rischi politici assolutamente imprevedibili e rischi nella corporate governance aziendale. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se state cercando un corso per imparare a impostare un portafoglio per il lungo termine da soli, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il videocorso dedicato a chi vuole investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.